E quest'anno è la quarta edizione per il concorso Mostra Presepicità di Rovigo. Cosa ci puoi raccontare? Ma noi dopo purtroppo l'interruzione dell'anno scorso per il Covid-19 abbiamo voluto riprendere questa nostra manifestazione con l'intento proprio di dare un segno di ripresa delle nostre attività insieme a tante altre che stiamo programmando anche per l'anno 2022. Quindi questo è lo scopo principale e si tratta di un concorso anche, cioè i partecipanti concorrono per tre premi, tre targhe simboliche, non ci sono grandi possibilità ma comunque un riconoscimento viene dato ai primi tre classificati dalla votazione popolare. Noi abbiamo messo in ogni box un'urna con dei bigliettini dove il pubblico può votare il proprio presepe preferito. Diciamo che anche dagli anni scorsi è sempre stato dato i premi a quelli migliori, quindi il pubblico ha al di là diciamo delle varietà, varie classi eccetera, ha individuato sempre i presepi migliori e questo ci fa piacere. Quanti sono i presepi in concorso? I presepi sono 18, variano da tante ambientazioni, abbiamo un'ambientazione di montagna con uno chalet di montagna, abbiamo un'ambientazione rustica fatta con cose molto elementari, cartone, cartoncini e anche c'è un presepe che mi ha colpito riguardo il discorso dei profughi che purtroppo ammarano sulle nostre coste in malo modo e ce n'è uno molto particolare e poi tanti altri. Direi che è un'occasione bellissima per animare intanto il Natale, visto che l'Unione Europea ha cambiato idea per cui si può parlare di Natale, di Gesù e di Maria e poi soprattutto per animare questa bellissima realtà che è la nostra piazzetta che spero quanto prima venga recuperata e restituita alla città nella sua bellezza. Come il Circolo di Rovigo, di cui sono presidente, è il quarto anno che siamo a fianco del Circolo Arti Decorative e in questa iniziativa che, ripeto, valorizza il periodo, valorizza la realtà, valorizza la nostra città. Quindi, insomma, viva il Natale e viva la Mostra dei Presepi. Grazie mille. Ok, grazie a te.